Attenzione, vai! Chaguinho! Come era quella di qua? Paranauè! Paranauè! allora, allora Paranauè a parti dobbiamo vedere, estrarre un po' di palo brasiliano di queste donne sensuali, di queste coppaesane vediamo un po', vediamo per fortuna, vieni con noi Paranauè 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 aspetta, aspetta attenzione Paranauè Paranauè capoeira, capoeira attenzione con il spazio con il spazio hey, one, two Paranauè vai già Vittorio Paranauè 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 Bene, grazie Botto di samba dobbiamo vedere Botto di samba Botto di samba Cucu mi spiaggia, cucujiamo nel ristorante, cucujiamo nelle staglie, cucujiamo per tutto!